Stamani si è formalizzata in Consiglio Comunale questa sua decisione, intanto da dove parte? La mia decisione è una decisione sicuramente sofferta perché due anni e mezzo in Lega mi hanno fortificato per certe cose e mi hanno anche dato grandissime opportunità. Purtroppo ho fatto questa decisione di uscire dalla Lega e formare questo gruppo che sarà un gruppo propositivo con persone intorno a me che mi hanno fortemente stimolato e devo ringraziare tutti quegli elettori che tutt'oggi mi prendono per la giacchezza e mi fanno le domande. Quindi sarà un movimento di grande proposizione e se qualche volta ho mantenuto il numero regale o ho appoggiato la Giunta è stato solo per il bene della città. Si parte comunque da un voto di preferenza, questa era la scelta alla fine di base. Detto questo, dal punto di vista invece delle adesioni? Io ho intorno a me diverse persone. Io spero che qualche altro consigliere voglia venire con me e insieme traghettare questa città perché oggi sono volate parole veramente grosse qui in Consiglio Comunale e vorrei veramente che ci fosse molto interesse perché io ho fatto un passo leggermente indietro ma vorrei che il gruppo si allargasse enormemente. Come si pone lei adesso all'opposizione comunque di questo governo? Ripeto, all'opposizione ma sarà un'opposizione progressista, avremo delle idee da dare all'amministrazione e quindi così come saranno gli atti di indirizzo saranno anche delle variazioni ai regolamenti.